Ah! Cor-du-tu! Alle promesse fiscali, eliminazione delle tasse sulla prima casa e sull'auto, non verranno tassate successioni, donazioni ed eliminato l'IRAP, oltre all'instaurazione di una flat tax, promesso un piano straordinario per la natalità, con sirinido gratuiti e consistenti assegni familiari. Lo senti il vento di libertà che sta arrivando? Eh, lascia gli ormeggi, cazza la randa, sarà una risacca che vi seppellirà. Cazzo, cazzo, io, io.